ciao ragazzi ciao amici buongiorno ciao aria buongiorno anche a te allora oggi faremo un gioco con una bottiglietta di ketchup e una busta di carta è già tutto pronto quindi attenzione ragazzi fate molta attenzione perché il gioco è veramente difficile ok io credo che non mi riesca tipo una volta su 10 proviamo perché non so neanche se viene dunque con questa busta vedete una busta vuota all'interno io cercherò di far sparire una bottiglietta di ketchup quindi attenzione mettiamo così adesso al mio tre allo schioccare 123 che cosa succede succede che la bottiglietta sparisce e questa volta il gioco è riuscito attenzione rimettiamo la busta per terra vedete 1 2 3 ta e la bottiglietta di ketchup riappare lo rifacciamo un'altra volta sempre più difficile attenzione stavolta non tocco niente non tocco nulla l'unica cosa che faccio 1 2 3 schiocco due volte le mani e la bottiglietta di ketchup è sparita sono stato bravo non vi è piaciuto questo gioco allora poi dopo il gioco ne facciamo dopo un altro ok ciao ho rotto tutto ciao